Una mattina mi sono svegliato Di 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 Voglio Per passare dalla casa di carta Alla casa ov Basta un secondo Però ora Faccio l'ho assamato Perché sto buendo i cavi Voglio Vi faccio ritornare indietro con il tempo Con una ricetta che faceva una delle nostre nonne A casa ov Non so perché mia moglie è stata a Ren Però Cominciamo a Bressa Bressa A Fino Romuli Iam miam Voglio ingredienti Pecorino romano Uova Prezzemolo Ingredienti semplici Sugna paesana Uno spicchio d'aglio E la pasta scegliete voi Avevo i fusilli Ma quelli più indicati sono i tubetti Allora Come primo passaggio Sugna in padella L'aglio lo dovete lanciare però Perché se no Insomma non piglia il sapore Nel frattempo che L'aglio soffrigge E diventa bello biondo Caliamoci già la pasta Perché è una pasta Super veloce Ma buonissima e saporita Quando l'aglio è bello biondo Lo togliete E poi Alzate un po' la padella Se avete anche il fuoco a casa Naturalmente la fiamma Alzate la padella E ci mettete l'acqua dentro Spegnete il fuoco E aspettate la cottura della pasta Nel frattempo Nella bulla In una bella bulla Uova, sale, pepe, prezzemolo E pecorino A bavaruna Mischiate tutto E fate uscire una bella cremina E non facciate A faccia scemo Come sono facendo Perché io Sono diventato Un po' Cacusimo La pasta Bella al dente E la fate Un po' Risottare In questo Bel Sughetto Insomma Che si è formato Con Acqua di cottura E sugna Quando si è tolta Tutta l'acqua E si è ben Legata Al fusillo Lo lasciate riposare Un po' Fate un po' Raffreddare la pasta E poi dopo Mettete tutto In questa bulla Adesso il calore Della pasta Che non è neanche tanto Fa Insomma Un po' Cuocere L'uovo Però lo fa rimanere Bello cremoso Vedete Adesso aspettiamo Un pochettino Che diventa cremoso Saltiamo un poco Andiamo a impiattare Vagiu Guardate che bella cremina Vagiu E' fenomenale Questa cremina E non vi preoccupate Perché L'uovo E' ormai cotto Vagiu Ed eccolo qua Lo vedete Come brilla La pasta ideale Era un tubetone Ok O il tubetto Case ovo Che era fino a una con Però Mottenevi i fusilli Da dispens E guardate Questa crema Vagiu Amore mio Vagiu Guardate come bella Questa crema Non vi preoccupate Perché con il calore Della pasta Naturalmente Gli abbiamo dato Un po' Di calore all'uovo Però un po' Come succede Con la carbonara Che deve rimanere Ancora un po' Vagiu Vagiu Mo Prova Assaggia E vorrimmo Come è venuto Diamo Amore mio Assaggia Che tu vuoi Asprimare Fammi vedere Mamma mia La pasta Tossa Mi piace A me Buah Mi ha finito Romagna E ti dico Che ti mangio Vagiu Non vi dimenticate Di condividere La ricetta E non vi dimenticate Di fare Le ricette Delle nonna Perché Quella Sono le ricette Più belle Fammi le mangiare Un po' Ci vediamo Alla prossima Guardate Cosa va E che crema Non vi dimenticate Non vi dimenticate Come è buona Alla prossima